Inviata dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative una nota ai comuni destinatari del reddito minimo di inserimento delle province di Caltanissetta ed Enna. Il Dipartimento deve procedere all'aggiornamento dell'elenco alfabetico ad esaurimento dei soggetti già fruitori del reddito minimo di inserimento, utilizzati, si legge nel documento, nei cantieri di servizi di cui è l'articolo 1 della legge regionale 5 del 2005. Pertanto viene richiesta ai comuni la conferma o meno dei nominativi già presenti nell'elenco alfabetico pubblicato nell'agosto del 2021 e l'invio dell'elenco dei beneficiari impegnati nei cantieri. Nel caso dei sostituti bisognerà comunicare il motivo della sostituzione, indicando anche se è provvisoria o definitiva. Dopodiché verrà redatto e pubblicato il nuovo elenco. Sono passati infatti quasi 20 anni dall'istituzione dei cantieri di servizio, destinando delle somme di finanziamento ottenute dai comuni dove vengono avviati gli stessi cantieri, individuando dei programmi di lavoro. Per cantieri di servizio, si precisa infatti nella legge del 19 maggio del 2005, numero 5, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione siciliana numero 22 del 21 maggio dello stesso anno, Si intende un programma di lavoro temporalmente definito, utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali, in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste, o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi, per i quali, si legge ancora, l'organizzazione amministrativa del Comune non si è adeguata.